Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Apriamo parlando della Juventus e in particolare di Cristiano Ronaldo che è tornato a Torino, ha svolto le visite mediche e si è già allenato con la Juventus. Il suo futuro sembra davvero tutto bianconero. Ne parliamo comunque con Tommaso Bonan. C'è una Juventus con Cristiano Ronaldo e c'è una Juventus senza Cristiano Ronaldo. La frase è inflazionata, lo sappiamo, ma mai come in questo momento, mai come quest'anno, tutto o comunque molto dipenderà dal futuro, dal presente e dal futuro del portoghese. La Juventus è a un bivio capire e decidere se continuare, se includere il portoghese nel progetto, nel nuovo progetto, nella nuova Juventus di Max Allegri e lo farà nel corso dei prossimi giorni. Perché? Perché bisogna decidere, bisogna capire quale ruolo potrà avere CR7 nella nuova Juventus. CR7 che nelle ultime ore è tornato a Torino dopo le vacanze post Euro 2020. Peraltro un Cristiano Ronaldo capocannoniere del torneo iridato. È tornato, visite mediche, diritto al J Medical. E anche primo faccia a faccia, ovviamente, primi allenamenti, prima sedute, prima faccia a faccia con il primo, quello che è stato il primo tecnico di Ronaldo alla Juventus. C'è da capire un po' di cose. Innanzitutto la collocazione tattica. Perché? Perché la Juventus ha da risolvere anche la grana, tra virgolette, Paolo Di Bala, il contratto in scadenza. Ronaldo ha il contratto in scadenza al prossimo anno. E chiaramente, se rimane, deve rimanere con un ruolo da protagonista. Quindi, prima di tutto, capire quale ruolo potrà avere Ronaldo in campo. Il ruolo fuori dal campo, nello spogliatoio, lo conosciamo tutti. I suoi gol, i suoi numeri parlano per lui. Non è un problema di realizzazioni. Cristiano Ronaldo ha sempre fatto gol e continuerà a farli. Però, chiaramente, è un giocatore che va gestito dentro e fuori dal campo. E soprattutto, anche la questione dei costi, dell'ingaggio. Insomma, c'è da fare un ragionamento a 360 gradi, anche considerando, come vi dicevo in precedenza, anche il rinnovo delle trattative per Paolo Di Bala. Sono giorni fondamentali per le uscite della Juventus, ma in primis per Cristiano Ronaldo. La Juventus riparte da lui. Con o senza dipenderà quasi o tutte le strategie di mercato bianco-nero. Torniamo a parlare dell'Atalanta adesso e lo facciamo con il nostro corrispondente sui Bergamaschi, Patrick Iannarelli. Ciao Patrick, buonasera. Ciao, buonasera Lorenzo. Parliamo dell'ambiente, perché che succede intorno all'Atalanta? I tifosi in questi ultimi giorni sono stati polemici, critici nei confronti della famiglia per Cassi. Non sono bastati evidentemente tutti questi bei campionati delle ultime stagioni, queste soddisfazioni che sono state raggiunte da parte dell'Atalanta. Sì, c'è stata qualche polemica di troppo, anche perché comunque i risultati sono sotto gli occhi di tutti, però qualche tifoso non ha digerito la possibile cessione di Romero. Poi comunque la questione amichevoli, perché nelle ultime settimane l'Atalanta ha giocato sempre a porte chiuse per una questione Covid. Ricordiamo l'Atalanta è in una bolla a Zingonia, fa il ritiro in casa anziché a Clusone, come gli scorsi anni. Era successo già lo scorso anno, sempre per via del Covid. Dunque, amichevoli a porte chiuse. Abbonamenti ancora non sappiamo quale sarà il futuro dei tifosi allo stadio, perché comunque sappiamo che dipende anche dal governo, dall'apertura al 50%, c'è chi spinge per il 75%, quindi anche lì l'Atalanta non si sta muovendo sugli abbonamenti. Tutti questi fattori hanno creato un pochino di malumore all'interno della tifoseria dell'Azzurra, però a quanto pare c'è stata anche una sorta di dietro fronte per Romero, quindi si sta cercando un attimo di capire bene come muoversi, però i tifosi si sono fatti sentire proprio per queste questioni. Quindi in questo momento non escludi che possa anche saltare il trasferimento di Romero al Tottenham? Allora, praticamente Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, durante la presentazione delle nuove maglie ha spiegato che servono delle offerte congure per il giocatore, niente maxi offerte. Cerchiamo di capire un pochino anche dalla questione economica cosa significa offerta congura, perché l'Atalanta deve comunque riscattare Romero dalla Juventus a 16 milioni di euro, già ne ha versati due all'inizio del prestito, due per il bonus al raggiungimento della qualificazione Champions, servono altri 16 milioni, quindi comunque per fare una plus valenza servono almeno 35-40 milioni di euro. Quindi è da capire un attimo come muoversi, però comunque la tifoseria si è fatta un pochino sentire, anche perché comunque se viene ceduto Romero c'è comunque la necessità di intervenire sul mercato, perché serviranno in questo caso due centrali difensivi, perché l'Atalanta dopo il mancato riscatto di Caldara sta cercando un altro difensore centrale. In ogni caso arriverà Pezzella dal Parma? Sì, sta facendo le visite emettiche Pezzella, è un giocatore che ovviamente andrà a ricoprire il ruolo di vice Gosens, un esterno di fascia che può inserirsi molto bene nel 3-4-1-2 di Gasperini, poi bisognerà capire se arriveranno altri giocatori, se ci sarà un piccolo cambio di modulo, se si tornerà al 4-2-3-1, anzi un passaggio quasi definitivo, visto che è un modulo che abbiamo già visto durante la scorsa stagione, comunque l'Atalanta è al lavoro perché servono ancora due o tre elementi, indipendentemente dalla cessione di Romero o meno al Tottenham, per poter completare la rosa di Giampiero Gasperini in vista della nuova stagione. Ci aspetta anche il vice Deron, a questo proposito quali sono i nomi più caldi? Sì, il nome più caldo rimane quello di Tenkopf Miners, un mediano del AZ che comunque è stato convocato all'Europeo, non ha mai giocato, non ha trovato continuità, però è un giocatore di prospettiva, l'AZ chiede 20 milioni di euro, l'Atalanta ne offre 15 compresi bonus e non più bonus, quindi c'è ancora un pochino di distanza tra la richiesta del club olandese e l'offerta dell'Atalanta, quindi bisogna limare, sì comunque si aspetterà anche perché comunque c'è Deron, c'è Freuler e nel caso in cui non dovesse arrivare un centrocampista si potrebbe arretrare Pasalic o Pessina come è già stato fatto, quindi serve sì un vice Deron, però se non arriva ecco non è una tragedia, comunque gli uomini mercato soprattutto in queste due settimane, perché poi dopo è vero che il mercato chiude a fine agosto, ma serve far trovare una rosa pronta, nelle prossime settimane i uomini mercato dell'Atalanta cercheranno di chiudere il prima possibile le diverse operazioni appunto per rinforzare la rosa. E lo stato d'animo di Gasperini in questi giorni qual è? Gasperini è sempre in tensione, come ha detto qualche settimana fa il suo vice Tullio Gritti, vuole avere sempre qualche nemico un pochino per mantenere alta la tensione, perché Gasperini è così, ha uno spirito battagliero, per il momento si lavora, Zingonia, oggi lunedì giornata di riposo, però poi da martedì si riprende, continua la preparazione a colpi di doppie sedute, allenamenti, partitelle, ci sarà il test match il 31 di luglio, salvo cambiamenti dell'ultima ora contro il Pordenone, poi l'amichevole contro il West Ham a Londra. Comunque tutti i test per capire bene qual è la condizione della squadra, ma Gasperini è un po' contrariato, ma già lo aveva detto all'inizio per la questione dei nazionali, che comunque sarebbero arrivati tardi un po' tutti, sta riabbracciando il gruppo in questi giorni, ancora devono arrivare tantissimi nazionali, quindi l'Atalanta inizierà un pochino a fatica questo nuovo campionato, poi ci sarà Deron squalificato per la prima giornata. Gasperini manca ancora un pochino, ma deve già pensare a trovare la giusta soluzione per affrontare le prime partite di campionato. Grazie a Patrick Annarelli, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Parliamo ancora di mercato ed occupiamoci della Roma, è sbarcato nella capitale per giocare con i giallorossi Mattias Vigna, laterale uruguaiano proveniente dalla Palmeiras, ce lo descrive Giacomo Iacobellis. La Roma di Murigno ha trovato il sostituto ad interim di Spinazzola, infortunatosi come tutti sappiamo durante il suo ottimo Euro 2020. Il nome del nuovo profilo, del nuovo laterale, mancino giallorosso, è quello di Mattias Vigna. Vigna Lorenzo e non Vina, come si sta leggendo e dicendo in queste ore in Italia. Perché? Perché il ragazzo arriva dall'Uruguay, nonostante comunque il suo cartellino sia appartenuto fino a poche ore fa al Palmeiras in Brasile. Il ragazzo è nato in Uruguay, ha fatto una Coppa America da protagonista con l'Uruguay, dello storico CT Tabares, aveva iniziato tra i professionisti in un club storico nel suo paese, in patria come il National, una carriera già importante per questo classe 97, ancora giovane ma con grande esperienza internazionale alle spalle. Mattias Vigna viene da un sudamericano vinto Under 20, vinto con la nazionale Celeste, con la nazionale Charrua, usando il detto tanto gradito all'Ele Adani, e viene soprattutto da tante vittorie in questi ultimi anni, in questo ultimo anno col Palmeiras. Proprio per raccontarti più in profondità il giocatore, Lorenzo ho avuto modo di parlarne col suo ex compagno di squadra, Felipe Melo, proprio in questi giorni, in queste ore, e mi ha detto che Mattias Vigna è un grande rinforzo per la Roma e per la Serie A. Qualche curiosità, Mattias Vigna è un terzino con grandi doti fisiche, la sua ragazza, la sua fidanzata che lo seguirà anche in questa avventura nella capitale, è una nutrizionista, ne cura in tutto e per tutto l'alimentazione, un terzino in grado di spingere sulla fascia sinistra, coprire l'intera fascia, molto offensivo, un po' come Spinazzola, rispetto però semmai all'ex Atalanta, è un giocatore che ama attaccare molto di più la profondità, piuttosto che ricevere palla al piede e poi puntare direttamente l'avversario. Vedremo come andrà, ma sicuramente Vigna ha un rinforzo molto interessante per la Roma di Murigno, dieci giorni di quarantena per lui, visto che arriva dal Brasile, e poi le visite, la firma e l'inizio ufficiale e concreto della sua nuova avventura coi Capitolini. Adesso voltiamo pagina ed occupiamoci del Napoli, e lo facciamo collegandoci con Gianpaolo Sarini, ex tecnico tra le alte della primavera dei Partenopei. Ciao Gianpaolo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Innanzitutto, quali sono le tue sensazioni sul Napoli di Spalletti? Secondo me sono buone sensazioni, a prescindere dal fatto che c'è stato qualche piccolo intoppo a livello di infortuni, non ultimo quello di Demme, che comunque è un contrattempo notevole, perché starà fuori sei o sette partite, però tutto sommato il ritiro è andato bene, la squadra si è mossa discretamente bene. Ecco, in attesa di capire se ci saranno delle partenze eccellenti, che cosa pensi di Torsby come eventuale rinforzo per il centrocampo, anche in ottica sostituzione di Demme, facevi riferimento appunto all'infortunio di Demme? Ma adesso, a prescindere da questo infortunio, io credo che la rosa del Napoli, se non venga toccata, sia una rosa di prim'ordine, fermo restando che va, diciamo, tappato il buco dell'esterno basso a sinistra. Loro stanno cercando in tutte le maniere di portare Emerson Palmieri a Napoli e se prendono un giocatore in quella zona di campo, secondo me, non vendendo nessuno, il Napoli ha una rosa veramente competitiva. Non dimentichiamoci che il girone di ritorno dell'anno scorso, il Napoli era, credo, primo in classifica, o secondo in classifica, insomma, è una rosa, a mio parere, completa con, diciamo, l'arrivo dell'esterno basso a sinistra. Voglio sentire, Gianpaolo, anche il tuo parere a proposito di Shaqiri e di un suo eventuale ritorno in Italia, perché di lui si è parlato come possibile rinforzo del Napoli o anche della Lazio. Sì, è un giocatore comunque che agli europei ha fatto molto bene, insomma, e vi proviene da una squadra come il Liverpool che è una delle squadre più forti d'Europa, quindi chi prende questo giocatore prenderebbe comunque un giocatore di livello europeo, di livello internazionale. La Lazio e il Napoli hanno comunque organici importanti, come detto, il Napoli, se non lo tocca, a mio parere, è un organico già bello che è fatto. La Lazio deve assolutamente, per provare a rimanere nell'elite del calcio, almeno due o tre pezzi deve, secondo me, metterli dentro. Ecco, restando sulla Lazio, da ex Bianco Celeste, che cosa pensi del mercato della società di Lotito? Tutto sembra ruotare adesso intorno alla possibile cessione di Correa? Sì, sicuramente sì. È evidente che con i tempi che corrono per operare devi anche comunque vendere. Correa potrebbe essere un pezzo, diciamo, appetibile per poi arrivare a magari a tappare qualche buco che nella Lazio comunque c'è. Io ho visto tutto il ritiro, ho visto anche l'amichevole con la Triestina, si vede già comunque la mano di un allenatore che tutti conosciamo, che io conosco comunque bene in modo particolare. Credo che la Lazio con la Rio di Sarri abbia comunque dichiarato di poter essere protagonista anche nel prossimo campionato. Ecco, degli eventuali rinforzi per la Lazio come Basic, centrocampista croato, e Brandt, esterno tedesco, cosa pensi? Penso che sono giocatori interessantissimi. Bisognerà vedere adesso il minister Sarri che cosa avrà chiesto alla società, perché comunque si sa che che lui ha un modo comunque tutto suo di lavorare e magari avrà bisogno di una pedina o due pedine per poter completare l'organico. Si legge, ho letto anche che voleva portare ancora con sé Cagliecon, che è un suo fedelissimo da quando era al Napoli. È evidente che se uno è stato con lui comunque parte avvantaggiato, perché lavorare con un allenatore del genere quando arrivi e sei nuovo paghi un po' lo scotto della nuova metodologia. Lo vedresti capace di rilanciarsi Cagliecon nella Lazio con Sarri dopo un'annata assolutamente deludente con la Fiorentina? Io ho vissuto l'era Sarri e Cagliecon era un giocatore forse veramente quello indispensabile io credo che Sarri non ci abbia mai rinunciato a un giocatore del genere quell'anno fece veramente delle cose straordinarie quindi ho un ricordo eccezionale di questo giocatore e credo che ce l'abbiano anche i tifosi napoletani e anche lo stesso Sarri. Vedremo allora grazie per il momento a Gianpaolo Saurini a presto a presto grazie a voi Adesso occhi puntati sulla nuova Fiorentina di Italiano ce ne parla in questa intervista ai nostri microfoni Enzo Valdini della RAI Enzo le sensazioni sulla Fiorentina di Italiano? Positive perché finalmente la Fiorentina ha un allenatore la squadra non è male e la società interverrà presto sul mercato Quindi ti senti di sbilanciarti anche sul prossimo campionato sulla posizione finale della Fiorentina nonostante il mercato non sia decollato né per la Fiorentina né per le altre squadre? Qui voglio essere il fratello minore di Furio Valcareggi che dice sempre io le partite le gioco il sabato e il lunedì allora sento parlare delle sette sorelle non so se in queste sette sorelle i miei colleghi ci inseriscono anche la Fiorentina diciamo allora saranno otto perché la Fiorentina sarà protagonista Quindi entro le prime otto? La Fiorentina è forte e ripeto presto avrà anche un'identità una fisionomia una squadra che avrà voglia di stupire anche fuori casa E dal punto di vista del mercato che cosa ti aspetti soprattutto che cosa succederà secondo te in difesa visto che ci sono dei punti interrogativi sul futuro di Pezzella e di Milenkovic? Ne aspetto poche operazioni perché ripeto questa squadra è già buona così se ne è accorto anche Italiano che sta aspettando Pulgar i campioni della Coppa America e Castrovilli però credo che alla fine un regista e un esterno d'attacco arriverà Poi la Fiorentina sarà posta così quindi con due colpi? Guarda finalmente a Firenze si tornerà a parlare di calcio perché c'è un allenatore che ha fame di calcio e capisce con la C maiuscola il calcio si parlerà meno di immobiliare di cemento e finalmente ci saranno anche uomini dentro un anno fa sono stato molto critico con la società molto critico qualcuno se ne ha avuto anche a male ma evidentemente avevo ragione perché poi è arrivato Burdis e evidentemente mancava un uomo di calcio e quelli che c'erano forse non avevano tutto questo potere perché poi è rimasto un allenatore che Barone e Pradè mi piace fare anche dei nomi forse avrebbero voluto mandare via per prendere altri La questione Vlaovic come andrà a finire secondo te e quanti gol farà nel prossimo campionato? Quanti gol farà? Ne ha fatti tanti ieri se li avesse tenuti per il campionato scherzo Vlaovic per me resta a Firenze perché se davvero la Fiorentina è pronta a presentare un'offerta robusta importante con oltre 3 milioni di ingaggio più bonus a salire basterà convincere il suo procuratore e poi perché Vlaovic oltre che essere un gran bel giocatore lo faccia anche un ragazzo intelligente e ha capito che il futuro è qui a Firenze si riscuote il 27 e c'è la possibilità di vincere senza stravincere e sei già un re Tornando alla possibilità della Fiorentina di entrare tra le prime otto tra le big secondo te chi può fallire? Io mi auguro che falliscano in tante intanto il mercato è aperto non sono così sicuro per esempio che l'Inter possa presentare una coppia d'attacco come Lautaro e Lukaku se davvero Kane passerà al Manchester City potrebbe presentarsi il Tottenham in casa dell'Inter anziché venire a bustare qui a Firenze per prendersi Vlaovic e portarsi via dunque il belga o l'argentino il Milan che se ne dica ha speso tanto ma ha comprato i giocatori che aveva di già e ha perso soprattutto il più grande portiere del mondo un giocatore come Cialanoglu il Napoli ha cambiato allenatore poi ha già cominciato male in salita la preparazione con questo infortunio Toccoferro ma ripeto sono molto ottimista perché finalmente abbiamo un allenatore la Fiorentina per due anni non ha avuto allenatori perché Iachini aveva il patentino ma come uno che ha una patente B e volesse guidare su un autodromo e correre in Formula 1 Iachini non era in grado l'altro era un bravo allenatore che capisce anche di calcio grazie a Prandelli che ha fatto esplodere Vlaovic ma non aveva più la testa per fare questo mestiere tanto che lo ha messo con una lettera e se n'è andato La questione Lirola come andrà a finire? Io credo che Lirola rimarrà a giocare nella Fiorentina se ne accorgerà anche lui che indossare la maglia viola è un piacere e c'è anche il verso di divertirsi certo se lo fai giocare il quinto di centrocampo prendo faccio la valigia e me ne vado ma credo che l'italiano la pensi diversamente Per quanto riguarda invece i giocatori che potrebbero essere rilanciati ce ne sono in questa Fiorentina? Ce ne sono tantissimi ce l'ha dimostrato la Coppa America Pezzella era inguardabile qui a Firenze è stato titolare uno dei pilastri dell'Argentina ha vinto una Coppa che non vinceva da tantissimi anni così dico Milenkovic dove va Milenkovic? A quest'ora se davvero ci fossero squadre interessate avrebbero bussato alla porta della Fiorentina Quindi alla fine prevedi che sia Pezzella che Milenkovic saranno ancora alla Fiorentina? La Fiorentina credo sia una delle società più forti non d'Italia ma d'Europa una società economicamente solida il commisso sta bene ha qualche soldo e dico si può permettere anche di perdere i giocatori a parametro zero attenzione questa dei parametri zero perché poi anche al giocatore non conviene giocare senza contratto Spinazzola insegna Con le parole di Enzo Baldini siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione grazie per averci seguito appuntamento a domani buon proseguimento di serata